Una situazione disastrata, quasi 800.000 euro di debiti, ma abbiamo fatto fronte a una situazione disperata tagliando le spese inutili, i costi anche gli straordinari ai dipendenti. Così Antonio Sorbo a chiusura del 2013 nel presentare il resoconto dei primi mesi di attività della sua amministrazione. Ci sono tanti sacrifici da fare per tutti, ha continuato Sorbo, ma vediamo la luce in fondo al tunnel grazie a una gestione accorta e grazie anche agli sforzi di tutti gli amministratori. Abbiamo lavorato su tante questioni importanti, bilancio per le pubbliche, edilizia scolastica, insomma le problematiche di Venafo sono tante. Abbiamo raccolto un'eredità pesantissima, voglio dirlo perché sia chiaro. Non era mai accaduto, almeno negli ultimi 30 anni, che il Comune di Venafo chiudesse un bilancio consuntivo, cioè un esercizio finanziario con un debito, come è accaduto per il 2011, l'ultimo della gestione dell'amministrazione di Nicandro Cotugno, che ci ha lasciato un'eredità di 740.000 euro di buco di debito, che noi insieme al commissario, noi adesso stiamo cercando di coprire. Ma è sull'offerta culturale e sul turismo che Sorbo punta per il futuro. Di fronte alla crisi economica e industriale che ha colpito pesantemente il territorio venafrano, il sindaco vuol fare della sua città la vetrina di un molise da scoprire per i turisti sia italiani che stranieri e per questo gli investimenti, compresi i Pisu, puntano tutti sulla valorizzazione delle risorse. Anche per mia formazione, per mia pregressa esperienza, non potevo certo rascorrare la cultura. Il nostro sogno è far diventare Venafro un centro, lo è di fatto, ma vogliamo che venga percepito anche all'esterno, come una città d'arte e di cultura, che è quello che è, quello che è la sua storia. Con tutto il rispetto per tutte le realtà che ci sono nel molise, ma qui c'è la metà dei beni vincolati al Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo fatto tante cose, a costo zero, lo voglio ricordare i cittadini, 53 eventi estivi, 16 eventi natalizi, oltre un mese con la mostra sulla legalità dei diritti umani al castello, la riapertura del museo di Santa Chiara insieme alla sovrintendenza. Tutto questo a costo zero, portando centinaia e migliaia di persone a Venafro. Questa è la strada sulla quale vogliamo continuare e nel 2014 posso annunciare che ci saranno una serie di initiative importanti che stiamo organizzando anche da questo punto di vista, sempre con la stessa filosofia, quella di non pesare sulle tasche dei cittadini che in questo momento hanno altri problemi.